Collaborazione e comunicazione sono le parole d'ordine quando si tratta di Maxi Emergenza e per testare le abilità dei soccorritori è fondamentale anche il contributo offerto da figuranti e truccatori. Nulla è lasciato al caso. Siamo formati ed addestrati appunto per ricreare nel modo più vero e tiro possibile quelli che sono traumi da ricreare sui simulatori in modo da abituare anche all'impatto visivo il soccorritore. Quindi fondamentalmente sia l'impatto visivo sia l'abilità anche in quello che è il soccorso pratico. Per cercare di stimolare anche il soccorritore e aiutandolo perché comunque se hai un punto con un ematoma, con una lacerazione o qualsiasi cosa interviene sul punto dove si vede la ferita. È sempre importante, lo sottolineiamo spesso, la collaborazione tra quelli che sono i professionisti del soccorso ma anche i volontari. Sì, lo abbiamo visto nell'esibizione e esercitazione che abbiamo fatto all'interno di Editoriale Libertà. Oggi sarà un evento credo abbastanza particolare anche perché i nostri operatori sono veramente all'oscuro della casistica. Ci sono diversi figuranti, c'è stato un forte impegno anche del gruppo truccatori e ritengo che sia di un'utilità specifica per far fronte alle macroemergenze. Un evento di primo livello e sicuramente servirà e per gli operatori presenti oggi ma anche poi per fare esperienza e portarla agli altri. Noi interveniamo con la funzione protezione civile, quindi attiviamo il COC, funzione volontariato e anche funzione mass media rivolta alla popolazione per avvisare la popolazione su quelle che sono le misure di autoprotezione, non avvicinarsi, stare a casa, chiudere le finestre eccetera. Quindi noi attiviamo di fatto in un'emergenza di questo tipo il centro operativo comunale in forma ridotta. Lo scopo di questo tipo di esercitazione è di testare in una simulazione realistica l'effettiva capacità e sinergia di tutti gli attori che sono in campo, ognuno nell'ambito delle proprie competenze. Quindi è una bella cosa, speriamo se ne facciano altre e soprattutto speriamo che tutto vada bene e nessuno si faccia male, però è davvero.